Ben trovati, ben trovati di nuovo, un nuovo giorno, signori e signore, eccoci qui di nuovo su Assassin's Creed, per chi non lo sapesse... Mi chiamo... Salve, mi chiamo Sayo, comunemente noto come Riccardo, pratico percure dal 2008 e lo insegno dal 2012. In questo canale, che non è il principale, link in descrizione per quello principale, vorrei più concentrarmi su tutto quello che è il mondo del gaming. Esatto, e questo è Assassin's Creed 2, la saga in cui porto tutto Assassin's Creed nella prima volta che ci gioco, tra l'altro. Quindi, let's go! Verso la Toscana, vuoi davvero... Certo, voglio andare dal zio. Ma io non esco mai dall'Animus stavolta. A meno che tu non perda un quadrato totalmente. Quindi posso anche non perderlo totalmente. E qui cosa succede? Smonta. Chi sono questi? Li posso soldare? Ma questi mi seguono adesso? Oh! Vediamo. Ah no, devo andare proprio di qua. Ok. Venite piccoli. Mi seguite? Mamma mia, sono armati malissimo. Cosa fanno questi? Oh, scusate. Non credo che fosse così, che il gioco l'aveva vista questa cosa. Ma, scusate, mi faccio parkour come prevedete che io mi... Anche il cavallo mi segue. Come prevedete che io mi muova, se non dritto per dritto. Oh, una piccola zona. Ma forse dopo... Oh, eccoci. Forse doveva essere dall'altro lato, vero? D'accordo. Tazio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Daglie. Va bene, allora ascolta. Perdonate tutto. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente. E la porta a sud è sguardita. Ed è lì che attaccheremo. Va bene. Let's go. Madonna, ammazziamoli tutti. Madonna come sono gasato. Forza. Ah, è notte. Va bene. Io li ho già soldati i miei, quindi li ho persi. Perfetto. Buona sapessa. Il cavallo continua a seguirmi. Forse dovevo legarlo da qualche parte. Non si sa. Spada. Ok. Let's go. Va bene Ezio, ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che ne avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Subite. Prendi questi pugnali da lancio. Usali per togliere di mezzo gli argiari. Oh, mi piace. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. Il meccanismo è lì, ok. E questo che corre? Pugnali da lancio. Eccoli qua. È il momento. È proprio distante lui. Maledizia. Dai, annanciamo. Ok. E ora... Apriamo. Let's go. Diamo una mano al... Allo zietto. Questo rumore è sempre... Oh, ho sbagliato. No, ma... Ti ho detto che voglio la... Da dietro? Ah, quindi da dietro non devo neanche fare nessuna fatica perché... Devo riprendermi con le... Con le... Con i comandi. Eh, però qui c'era un arciere, raga. Non so se volete... Cosa dobbiamo fare? Vabbè, parlare con... Con lo zietto. Beh, l'ho visto. Aspetta, 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 raga. Dobbiamo uccidere questo. Madò. Ok. Possiamo andare adesso. E questo può dare l'allarme, no? Bello questo roll. Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire vieni per sempre. Va bene. Ok. Aspetta, nipote. Portati alcuni dei miei uomini. Ah, ok, quindi non è stella. Tornata a me quando le avrai sistemate. Va bene. Solo un bel po', eh. Andiamo. Premium per farti aspettare da un gruppo. Farò un altro cenno quando dovrete seguire a morire. Che problema c'è? Ammazziamo tutti? No, la daga. Questa. E uno. E due. Continua a cambiare mia arma, non capisco. Sono io stupido? Uno. Da dietro, altro che backstab. Di far proprio... 9 di 10. Banca uno. Vale. Ma posso... No, non mi vale mai la pena. E... Cosa è questo? Qualcosa da togliere? Manifesto? Ah, perché... Certo, notorietà. Certo, questa cosa è tipo GTA. Ho capito. Va bene. 250... Cazzo, ma... Sono molto di più rispetto all'inizio. Che sia che vada avanti a seconda di quanto io divento forte. Rispetto a quanto in realtà trovo e basta. Non so se hai il tempo di fare questo, ma... Lo vorrei... No, lo facciamo dopo aver finito... Con il... Lo zietto. Ale? Ale! No, non l'avevo fatto questo. Da dietro... Andiamo, zio. Dove sei? Che se muore anche tu mi ammazzo, dio. No. Tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. Dove? Subito. Mamma mia, quanti. Ok. Mamma mia, non si capisce niente. Eh, direi... Va bene. Dov'è? Torre di Salvucci. Leggiamo adesso? No, leggiamo dopo. Siamo nel mezzo di una... Di una... Di un momento molto... Intenso, quindi... Oh, ma questa è una città bellissima. Quindi c'è una... Vabbè, chi è che mette i manifesti sopra le... Vabbè. Devo... Ah, con una... Con una freccia. Va bene, lo accetto. Lo accetto e come? Oh, sali. Questo warrunner è fuori di testa. Va bene. Dai, sali. Cos'è successo? Occhio dell'aquila a fermarsi. Seguire. Ah, perché ho ancora agganciato i tipi. Quindi non posso sbloccare l'area. Va bene. Prima dobbiamo salvarla da questo tizio. Ho capito. Andiamo allora. Piccola tappa. Forziere. Non si sa mai. Let's go. È qua. Non capisco. È più in alto. Questo gioco è bellissimo, l'ho già detto. Mi piace tantissimo. Mi piace proprio tanto. È deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Ok. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. È quell'ubriacone di Mario. Continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco. Come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirmi, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. E chi è questo? C'è qualcos'altro? Muoi bene. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Chi è questo? Comandante! Comandante! Che c'è? Mario Auditore ha attaccato la città. Sta cercando voi. Allora non facciamola tendere. Cosa? Non fa il vigliacco? In attesa. Ah vabbè. In quest'altro no ho capito. Centomila persone contro. Assassina di Eri de Pazzi. Dov'è? Ah è oltre? Beh, niente. Vale. Su. Eccolo qui. Tieni premuto. Cerchio. Per affraire una sporgenza vicina. No. Mamma mia. No, è questa. Non l'abbiamo ancora tirata fuori. E uno. Voglio uccidervi tutti e poi venire da te. Bellissimo. Uno alla volta. Guardatemi voi. Intanto. No, non voglio te. Lasciami stare. E ora tu. Forza. No, che scontro epico qui sopra. Questo finisce. Con questo si conclude il primo arco vecchio mio. Il primo nemico. Il primissimo che abbiamo visto all'inizio. Bah. Oh, cazzo. Pazzesco. Sentiamo. Cosa tramate tu e i tuoi alleati. È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso. Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco. Vorrei solo che avessi sofferto di più. Hai avuto la fine che meritavi. Spero che bru... Basta, Ezio. Ah, sì. E' ancora molto giovane, Ezio. Preso dalla collera. Prendi questa. Leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa. Pazzesco. Ezio è effettivamente ancora molto giovane ed è guidato dalle emozioni, dalla rabbia e dal fatto di aver perso tutta la sua famiglia. Pagina del codice ottenuta. Lettera per Francesco De Pazzi ottenuta. Interessante. Capacità di lanciare pugnali a presa. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Beh. Cosa sta caricando adesso? Siamo alla villa nostra. Lo siamo. Quindi possiamo venire qui per... Provviste mediche. Ne ho usata una. Quindi possiamo proprio comprare. 75 fiorini sono molti, eh. Dovreste sentirvi meglio ora, ma riguardatevi. Qua passo a riparare. Vediamo quanto si... Dopo una missione media... Se c'è qualcosa da riparare. Ah, schiniere in cu... Ok. Quindi solo le cose che subisco. Non quelle che utilizzo, tipo le armi. E anche di poco. Aspetta. Fammi vedere. Oh. Oh. Perché non posso? Oh. Parla. Ma come? Queste sono robe nuove. Ma come? Ma queste sono robe nuove. Ho 7000 fiorini. Danni meno uno. Ma... Ah, quindi sono peggio di quello che ho? Ah, sì. Perché danni è due. Quindi tutto fa più schifo, va bene. Armi piccole. Questo è meglio. Vai. Pugnale. Sì. It's me, Mario, mi ha detto all'inizio. Il signore zietto. Vai. Stiamo diventando una... Piccola macchina da guerra ambulante. Questo non ce l'ho. 4000 più 4000. Accidenti. Beh, è chiaramente questo perché mi dà più resistenza. E più salute. L'altro aspetterà. È una citazione. Infatti l'avevo... L'avevo ipotizzato. Che fosse un tributo a Super Mario. Eccolo qui. Il nostro campione. Sentiamo un po'. Onore a Ezio. Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servigio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a vere. E a puttane. Che c'è? E beh... Vieni Ezio. Facciamo due passi. Sì, Ezio? Facciamo due passi. Scopri informazioni su Villa Auditore e trova le pagine nel codice IVI nascoste. Rispondevano a qualcuno. Uno spagnolo. Rodrigo Borgia. Uno degli uomini più potenti di tutta Europa. Il capo dell'ordine templare. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Già. E ucciderà anche te. Avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. Dove andrai adesso? A Firenze. Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. E qui sblocchiamo tutta Firenze. Va bene. Basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Va bene. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Subito. Allora. Lettera zio. Facciamolo subito. Database. Lettere. No. Frate giocondo. Ma adesso le posso aprire? Eh ma perché non è il caso di aprirlo? Ormai è morto. Vabbè. È questa? Messer Francesco. Ho fatto quanto mi avete chiesto e parlato a vostro figlio. Mi associo al vostro giudizio benché solo in parte. Certo. Vieri è arrogante. Incline ad agire senza curarsi delle conseguenze. Egli ha altresì l'abitudine di trattare i mercenari come fossero balocchi. Ho saputo di almeno tre uomini sfigurati per questo motivo. Ma al contrario di voi non lo ritengo irrecuperabile. Credo invece che la soluzione sia alquanto semplice. Egli cerca la vostra approvazione. La vostra attenzione. Questi suoi eccessi sono il risultato di insicurezze originate dal senso di inadeguatezza. Parla spesso di voi, con affetto, e ha espresso il desiderio di starvi più vicino. Perciò, quando egli strepita ed ha in escandescenze, lo fa solo per essere notato, per essere amato. Agite come meglio credete in base a quanto vi ho scritto qui. Ma devo chiedervi di cessare la nostra corrispondenza. Temo per la mia stessa vita se gli dovesse scoprire la natura dei nostri discorsi. Fidelissimus servitor, frate Giucundo. Va bene. Non non che sia questa. Ah, ma ce le ho le pagine. Quelle che ho visto prima. Ah, sono stupido! Sono stupido! Adesso ho capito. Queste che vedevo qua non devo ridistribuirle io. Adesso accediamo al frate Giucondo. Però. Non devo ridistribuirle io. Sono già messe lì perché le ho già trovate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Frate Giucondo. Madre! Sbaglio ogni volta. Cospiratori? Maggio. Ehm. Database. Persone. Persone. Viaggio in carovana. Mi sembra corrente. Sbaglio ogni volta. Sbaglio ogni volta. Ah, società. Ho sbagliato. Petruccio. Frate. Federico. Mario. Paola. Onetta. Leonardo. Mario. Petruccio. Rabio. Non ce l'ho. Viride pazzi. Questi ce li abbiamo già. Ma dove 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 lo trova? Il signor scomparso. Vabbè. Pare strano però. Ah ah, anche questa le torri di prima. Uno di quegli strani glifi di cui parlava Sean si trova su questo punto di interesse. Deveste andare a cercarlo. In una città famosa per le sue torri, la famiglia Salvucci non si accontentò di costruirne una. Ne eresse ben due. E per sfidare il Podestà, le due torri furono costruite più alte della torre rognosa, nonostante gli ordinamenti di San Gimignano nel 1255, proibissero un tale sfoggio di potenza e di aggressività muraria. Cioè proprio chi ce l'ha più lungo giocano? Vabbè. Il Podestà reagì immediatamente e ordinò di scorciare le torri. Scorciare? Cosa vuol dire? Finché queste non risultarono più basse. Ah, scorciare vuol dire. Ok, fagli la punta sostanzialmente. Più basse della propria. Proprio sprezzanti questi tizi. Va bene. Va bene. Parliamo allo zio. Cosa ci dice? Le riconosci? Altre pagine del codice. Sì, tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne altre prima che... Tenete. Due. Questa non è opera di tuo padre. L'ha tradotta a qualcun altro. Leonardo da Vinci. Un amico. Vedi come le parole passano da una pagina a quella successiva? C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre? Tuo padre e io riuscimmo a ricavare dei brani di una profezia riportati in queste pagine. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Accennava a qualcosa di potente. E nascosto sotto terra. E cioè? Ah, saperlo. È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io proseguo all'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Vieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene. Torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre. Ma posso chiedervi una roba raga? Questo gioco necessita del completismo per essere concluso, a pieno? Intendo la storia principale viene completamente sviscerata grazie al completismo? Ditemi di sì vi prego perché questa roba non posso lasciarla indietro. Cioè... Ah, no. Peccato. Va bene. Lo accetto. Perché sarebbe bellissimo completare tutto. Cioè... Sapere che ci sono dei pezzi di storia in più grazie allo sforzo maggiore. Ma dov'è? È ancora più su? È in camera mia? No, no, no. Mi riferisco alle pagine. Le statuette, le piume immagino che siano solo bonus. Ahà, quindi dovrebbe esserci un nuovo ritratto. Eccolo qui. Questo ritratto è di un templare, Vieri De Pazzi, figlio di Francesco De Pazzi, assassinato nel 1477. Quindi, posso fare una cosa un attimo? Prima mi ero confuso. No, documenti, lettere, da Uberto Alberti. Mi amato. No. Frate Giocondo, Francesco. Ho fatto quanto avete chiesto. Ok. Quindi stavo parlando del figlio. Devo prendere solo le pagine del codice. Mi confermate sta roba. Ok. Forse off live farò del completismo. Vedremo. Magari finiamo la storia e poi ci dedicheremo a completarlo perché questo gioco mi pare che meriti. Meriti la dovuta attenzione, il dovuto, non lo so, impegno per portare a galla tutto ciò che è stato prodotto e costruito perché mi pare veramente un'opera incredibile questa. Non mi aspettavo... Cioè, me l'avete detto tutti. Io pensavo fosse... Non so, sapete, io ho dei gusti molto rigidi, severi e spesso sono molto, tipo, un po' deluso dalle cose perché ho delle aspettative molto alte. Le avete alzate moltissimo voi, moltissimo, con tutti i discorsi che abbiamo fatto durante Assassin's Creed 1 e posso dirvi, attualmente trovano conferma, tutti, tutti, trovano conferma tutto quello che avete detto e ne vale la pena. Ecco le sue piume. Beh, vedremo, vedremo. Pagini del codice... Ok, e quindi adesso... Ah, me la date da vedere, da trovare. Una, due, tre e quattro. Quindi c'è qualcosa... Ah... Adesso le... Ok, i punti di interesse mi sbloccano le pagine del codice. Più giù. Ah, però aspetta, i punti del codice sono con il... No, non sono così. Erano così? No? Sono impazzito? Pazzesco. Noi abbiamo... Abbiamo depredato il codice all'inizio, il primo, senza sapere. Senza sapere. Ma è quello che ci ha dato la lama? No, perché siamo tornati da Leonardo e ne abbiamo portati due. Quindi uno è ancora inutile. Ho capito. Andiamo da quello più distante e poi torniamo. Oppure andiamo da questo. E poi andiamo. Io posso uscire dalle mura dritto per dritto. Come un vero maestro di parkour. Muoversi così le moroidi. Vecchio, se hai mai avuto le moroidi così non ti muovi, eh. Non so se sai di che cosa stai parlando. Oh, sono estremamente alte. Porca vacca. Devo fare il giro? Per forza? Che palle. Vabbè, tanto dobbiamo uscire per andare da Leonardo, no? Quindi tanto vale che ci buttiamo. Aia, usate. Tanto le ginocchia di questo uomo sono indistruttibili. Che bella la giovinezza. Blii, blii. Ok. Ok. Pagine del codice. Siamo all'altezza giusta? No, siamo all'altezza sbagliata. Quindi saranno più su. Ma sentite... No, rompete i napoglioni. Ah, questi. Siete dentro la mia magione. Farò il cazzo che voglio. Dovrebbero salutarmi con rispetto. Questa è l'altra. Poi andiamo da questa. E successivamente cavallino. E andiamo lì. No, 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 ma tutte le volte, tutte le volte ha preso... Cioè, è proprio scritto nei loro geni. Da Altair a Ezio appena vedono il cazzo di fiero. Bisogna entrarci, Dio. Niente da fare. No, troppo alto, giustamente. Questo non lo è alto. Va bene. Ancora più è alto. Adesso, tutte le volte. Andai mai a chi? Beh, se ci cado sopra in effetti sì. No, ho sbagliato. Depreda. Ok, ora fuori. E per piacere. Dove si esce? Non nemmeno mi tocca ogni volta. Si esce da qua. Quindi... Dov'è? Ok. Guarda quante... Quante tegole. Oh. In effetti ho fatto male a qualcuno. Aveva ragione. Qualcosa vi affligge, amico? No. Beh, in realtà è un po' sì, sto male, ma... Non è un problema. Cavallo. Bel cavallino bianco. Let's go. Giriamoci. E di qua. Calma, calma. Ah, non ho corretto che lo tenga premuto stavolta. Comodo. No, non è vero. Devo tenerlo premuto. E devo andare... Ah, è più su. Ok. Al prossimo video. Vai, vai, vai. Su, su, su. Benissimo. E ora possiamo andare a Firenze, raga. Ottimo. Qua c'è Firenze, vero? Ma noi andiamo in caravana. Vediamo se costa la caravana. Ah, cazzo, non l'ho letto. Decifrando quattro pagine, cosa? Ah, dobbiamo tornare là adesso. Dobbiamo passare da Claudio. Filosofico del codice aumenterai la salute massima. Ah, ok. Ah, è vero, l'aveva detto. No, era due cose. Quando blocco due cose, aumenta la salute. E quando sblocco quattro di queste... Cosa succede se entro in città con me? Non mi permette di entrare, vabbè? Va bene. Scomodo che non ci sia un fast travel dentro. Ah, è il simbolo degli assassini, vedo. Andiamo. Questo gioco sembra... Molto coinvolgente. Che ore sono? Ah, buono sapersi. È giù? Oh, ho sbagliato il piano. È andato per scontato che fosse qui. È nella stanza dei giochini. Salute, Claudia. Cosa fai? Nostro zio è un mostro. Sono davvero offesa. Che cos'è successo? Mi sta facendo lavorare. Se il babbo fosse qui, non starei certo marcendo dietro uno scrittoio. E quali sarebbero le condizioni di questa sorta di schiavitù? Visto che qualcuno ha deciso che staremo qui, lo zio ha suggerito che cercassimo di racimolare i soldi per ristrutturare la villa. Mi piace. Il fatto è che non ce ne sono. Le procuro io un po' di soldi. Fantastico! Più lavoro per me! Se vuoi che ti dica, va bene. Se metti dei soldi per delle migliorie al borgo, ne terrò traccia su questo registro. E non avendo niente di meglio da fare, prenderò anche nota degli oggetti che porti. Se alla fine riuscirai davvero a far andare bene le cose qui, forse i viaggiatori ci faranno visita e spenderanno qualche soldo. Dubito che qualcuno lo faccia, ma nel caso terrò il loro denaro in questo scrigno. Dovrai farti vivo tu per portarli in banca, perché quando sarà pieno, io semplicemente terrò per me i soldi che non ci entrano. Capito? Sta bene. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questa è una pagina molto, molto sugosa che non mi aspettavo di vedere. Ok. Ok. Calma. Innanzitutto il completamente 1% già mi gasa a bestia. Cioè il sapere che... Mamma mia. Ok, calma, calma, calma. Allora, botteghe. Restauri. Collezioni. E queste le devo portare io dentro, immagino. Armamento. Anche questo. Scrigno. La villa genera attualmente la rendita di 198 fierini depositati nel scrigno ogni 20 minuti. Capacità massima di scrigno 792. Premi X per prelevare il denaro dalla rendita della città. È zero. Giustamente, non l'avevo visto. Quella è la mia borsetta. Ok. Quindi se io faccio... È che voi non vedete, ma vabbè. Dietro fabbro e medico ci sono 500 e 750. Questo vuol dire... Aspetta, se faccio questo... Ah, niente. Ma come vado di là? Non capisco. Non posso fare niente? Parla con l'architetto della villa. Forse è lui. Buongiorno. C'è qualcosa che non va? Ser Mario mi ha assunto per riparare questo pasticcio, ma Erigo Palazzi non compio miracoli. Senza soldi non posso riparare nessun edificio. Eh, chiaro. E se qualcuno vi desse i denari? I denari. Allora ne potremmo parlare. Dovete essere Ser Ezio, giusto? Esatto. Sio! Mi piace questo architetto! Diventa molto garbato quando fiuta il denaro. Ne ho bisogno se volete che vi aiuti con questo borgo. Ho stilato una lista di preventivi per le nuove botteghe e le ristrutturazioni. Portate l'oro, scegliete l'edificio e io mi metterò al lavoro. Se vi costruissi una bottega, lì potreste comprare a prezzi più bassi. Più denaro investirete nella bottega, maggiore sarà lo sconto. E per le ristrutturazioni, beh, ridarete lustro al borgo e alla villa. Da quel che mi dice Ser Mario, questo premeva molto al vostro tresnonno. Bellissimo. Inoltre, finanziando botteghe e ristrutturazioni, aumenterete il numero dei visitatori, accrescendo le entrate. Per cui, perché non darei modiata i progetti? Subito, fammi vedere. Oh, si vede tramite la mini! La mini mappina! Il piccolo modellino! Mio Dio! No, non posso crederci. Oh, signor... Miniera! La miniera! Riaprite la miniera! Allora, questa possiamo demolirla. Caserma. Carina. Gilda dei ladri. Ma come fa a aumentare il valore? Scusate, con una gilda di ladri. Va bene. Allora, allora, con calma. Io ho 2000, quasi niente. Mercante d'arte non c'è e questo penso sia molto importante. Banca, con il simbolo di Facebook, LOL, aumenterà notevolmente il valore del borgo. Anche questo penso sia molto importante. Fabbro livello 2, 7000, possiamo scordarcelo. E medico 3000 anche, perché purtroppo non abbiamo un cazzo. Vende abiti. Questa c'è già. Io credo che... Ah no, questa non c'è già. Esattamente come queste due. Forse i quadri del mercante d'arte potrebbero aiutarci a aumentare ancora di più di valore con lo sconto. Cioè, prendendo robe scontate. Comunque abbiamo 1000. Secondo me possiamo sbloccare 1000, 1000 e sarto e mercante d'arte, dai. Sì, voglio farlo. E poi il sarto, che era appunto molto importante. Boh. Quindi qui posso fare questo. Buon viaggio! Ah, adesso ho capito. Ho capito. Big Money? Altro che SimCity qua. Questa? Sei qui per il registro? Sì, voglio vederlo. Ok, ok. Ok. Quindi qua mi dice solo i vari numeri. Cioè, non mi dà altro. Va bene, va bene. Mi dà soltanto un riepilogo. Adesso quant'è che faccio? 1000... No, 323 fiorini. Quindi 129, 323. Molto di più. Ogni 20 minuti di gioco. Ok. Non è ancora un cazzo. Dobbiamo continuare a fare le quest. Però va bene. A presto, Ezio. A presto, a presto. Ora io ho 925 fiorini. E questo lo sblocco sempre con questo signore. Buongiorno. Salute, Serezio. Diamo un occhio alla lista. Perfetto. Madonna i modellini! Io sono impazzisco per i modellini! Bellissimi! Dovete sapere che da piccolo quando sono andato... Buon viaggio, buon viaggio. Quando sono andato per la prima volta... Che è successo? Quando sono andato per la prima volta all'Italia in miniatura sono impazzito. Poi ho iniziato ad amare i Lego e tutte quelle cose che sono miniature. Non so perché. Mi piaceva tanto fare le mappe e ficcare le robe in scala. Quindi quella roba mi fa impazzire proprio. Vediamo cosa vuole questo. Parla. Ragazzo mio, credo sia tempo di mostrarti una cosa. Ma quante robe! Quante robe mi aprono! Ci sono un sacco di porte aperte! Oh signore! Adesso anche pure... Madre di Dio! Va bene, va bene. La storia principale. Quella sotto principale per la verità. E fare la cal... Cioè, mettere a posto la magione. E sbloccare le abilità. Minchia! Esplorare tutte le varie città. Ma quante robe ci sono da fare? Ah, corre forte questo. Leone di Venezia questo, eh? Oh! Cazzo! Cos'è sto questo? Questo è il santuario. Fu costruito da mio nonno per onorare la memoria dell'ordine degli assassini e proteggerne i segreti. Guardati attorno. Questi sono gli assassini che hanno difeso la libertà degli uomini, quando era in pericolo. E questa è l'armatura di Altair. Si sa poco della sua vita, ma l'armatura è molto leggera e robusta. Te la darei, ma non so come prenderla. Il mio bisnonno una volta disse che sarebbe rimasta inaccessibile finché tutti i suoi protettori non fossero tornati interi. Ho sentito parlare di alcune cripte sparse per l'Italia, a tombe segrete, piene di tesori. Altra roba. I sei furono spostati lì secoli fa. Forse hanno qualcosa a che fare con tutto questo. Una farfalla. Quando ero giovane, andai anch'io alla ricerca dei sei, ma senza successo. Magari a te andrà meglio. Madre di Dio! Madre di Dio! Per ottenere la sincronia perfetta con Ezio, devi procurarti l'armatura. Ma io ce l'ho già. Vabbè, chiaramente non è la stessa, ma è quella di... Qui c'è qualcosa da leggere, esamina. Su questo piedistallo si trova la statua di Kulangal, l'assassino mongolo. Ha colpito il cavallo di Gengis Khan, madonna sta diventando disgrafico, con arco e frecce. Pare che al piedistallo manchi qualcosa. Ok. Questo chi è? Darius, l'assassino persiano. Ha ucciso Cersei con una lama celata. Fu il primo usano e una. Pare che al piedistallo manchi qualcosa. Va bene. Darius. Poi abbiamo... Wei Yu. L'assassino cinese. Ha usato la lancia per uccidere il primo imperatore della Cina, Qin Xin Huang. Pare che al piedistallo manchi. Quindi ognuno rappresenta un'arma. Arco e frecce, lama celata. Lancia. È bellissima sta roba, sì sì. Amunet. Assassino egizia. Ha ucciso Kilopatra con un serpente. Pare che al piedistallo manchi qualcosa. Questa non so come considerarla come arma. Queste ha le bombe, sicuramente. Il Tani. L'assassino babilonese ha abbenenato. Ah no. Ok. Alessandro Magno. Ok. E Leonius ha trafitto Caligola con un pugnale. Quindi pugnale, lancia, arco, lama celata, veleno e serpente. E infatti sono questi i simboli. Una volta raccolti tutti, si capisce l'ovvietà di quello che dovrà succedere. Ho capito. Anche questa è stata aggiunta alle cose da fare. Questo mi sembrava Leone di Venezia. Però forse mi sbaglio. Speculazioni inutili a questo punto perché il gioco mi ha dato tantissimo, tantissimo a cui pensare. Senza bisogno di aggiungere altro. Diciamo che ti indirizza molto prepotentemente. Non nel senso negativo, però è molto indirizzante questo gioco. Cioè non mi dà tanto da scoprire da solo. Cioè è tutto ben scritto, è tutto ben decifrato in qualche modo. Ed è tutto molto scopribile. Nel senso che ti dicono, vai a cercare queste robe specifiche. No, vediamo il mercante d'arte cosa mi dà. Dipinti. La dama... Ah, scusate, faccio questo e poi usciamo. La dama con l'ermellino. C'è anche una descrizione? No. La dama con l'ermellino dovrebbe essere... Ah no, mappe del tesoro prima, 271. Assolutamente. E poi dipinti. Estasi di San Francesco. Vediamolo un attimo. Ma che belli questi dipinti! E poi... Oggetto già ottenuto, ok. Non me li ho fatti vedere. Fatemi vedere un attimo. Allora, mappa. Scherigni. Ok. Eh, non sono pochi, Cristo. L'ho già presi un po', però... Più 33 fiorini, ok. Perché ho comprato, come avevo ipotizzato. È praticamente spendere soldi per far soldi. Fammi vedere dove li ha messi. No. Dov'era la stanza dei quadri? No. Queste erano le armi. Forse è il primo piano? Ah, 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 ah. Porca vacca, ma... Qui restano tutte le cose che io non uso? E che compro? Certo. Pazzesco. Ma quelle invece erano in più... In dotazione, ok. Possiamo essere qui sopra, se non sbaglio. Eh sì, invece è quella qua. Oh, esamina. Opera di Giovanni Bellini ritrae San Francesco in estasi mentre riceve le stigmate. In estasi. E la dama con l'ermellino? Dove sei, dama? Dove cazzo è? Ma sono pazzo? Sono pazzo, forse. Sayu sarà in un'altra parte della Magione, ci hai pensato? Eccola lì, infatti. Opera di Leonardo da Vinci, modella di questo ritratto, fu Cecilia Gallerani, amante di Ludovico Sforza. Molto bella. Mi sembra piaciuto quel quadro. Della dama dell'ermellinus. Ah, 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 ma noi siamo sopra o sotto dei vari forzieri? Non mi sbaglio. Saranno su in camera mia. No, e non è possibile. Abbiamo già. Vediamo se sono in alto o se sono in basso. Sì, nella stanza di Ezio che si trovano le vittime, boh, mi fa un po' strano, cioè mi sembra anche molto malsano come atteggiamento. Cioè questo si colleziona i vari assassini che si fa in giro. Vabbè, ok, allora, dove cazzo sono questi qui? Sono fuori, no, 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 Ezio, su, calmati, calmati. Volevo solo scendere dalle scale. No, vabbè, ok, va bene, meglio così che non passi troppo il culo, però, ecco. Dove sono? Sono fuori qua? Come è fatto a non vederli prima? No, ma infatti non sono. Sono pazzo? Dove sono? Non possono essere qui. Non dimmi che sono sottoterra? Madre di Dio. E dove li becco sottoterra, scusate? Dove vado a beccarli? L'unico posto sottoterra è che basta provare a salire. Eh, sono qui, ma non penso proprio. Eh, infatti. Cioè, questa è l'altezza giusta? Minchia, non è qua? Ma sono vicinissimo. Va bene, per il momento lasciamone lei, perché vedo che ridete. Ma, quindi voi sapete, ma... Ciao, ciobbi. Buona serata. Grazie a se è stato con noi. Fuori... C'è questo. Che a questo punto presumo sia in alto. Molto strano, ma proviamo. Cioè, è fuori dal... No, ma non è qua. Non è qua. Per forza che non è qua. No, infatti. Non c'è neanche il rumore. Ah, forse è qua. No, no, non c'è. Quindi c'è un sotto... C'è un sottotutto. C'è un sottotutto. Forse qui è sopra. Andiamo. No. Invece sì. Qui non fa l'urore. Ah, proprio solo quando sono vicinissimo. Ok, non posso affidarmi al suono. Ok, buono sapersi. 606. Minchia, ma... Prendo tutti i tesori e sblocco un sacco di roba qua. Mi sto facendo male comunque a scendere. Non bene. Ah, quello significa che non è tutto. Ok. Mi lascia i bordi. Va bene. Ok. Per il momento quei tesori rimangono tesori. Ah, sarà sbloccando il pozzo? No. Forse sì. Boh, non lo so. Ehi là, ciao cam. È assolutamente valsa la pena finire l'uno per iniziare il due. Sono preso malissimo. Nel senso buono. Mi sta piacendo moltissimo. E sono mega concentrato per produrre un contenuto di qualità. E assolutamente pulito. No, ecco. Questo non volevo che succedesse. Pulito in termini di gameplay. Nel senso, cercherò di essere più preciso possibile. Perché mi pare un'opera che... Mi pare, ormai sono convinto. È un'opera che vale la pena essere esplorata con il massimo dell'attenzione, il massimo della cura e del rispetto. Perché ne vale proprio la pena. Ci sta donando un sacco di bei momenti. Esatto. E in più stiamo già prendendo nota di dei posti da andare a vedere in real life. Ok. Allora. Vorrei continuare a prendere i tesori. Perché così ci togliamo questo piccolo cruccio dalle spalle. e liberiamo il più possibile la zona per futuri investimenti. Qua ci sono un sacco di soldi in giro, eh. Ma dobbiamo sottovalutare questa cosa. Importantissimi. Se riusciamo a mettere a posto la magione qui, poi ci dà una rendita veramente copiosa, senza fare nulla. ed è una cosa che possiamo assolutamente sfruttare il nostro vantaggio e soprattutto prenderla più. Ah, ma dai, due addirittura. E... Ezio, dai. Cosa ti sta succedendo? Che non riesci a fare quel passaggio? Devi per forza andare di qua. Dicevo, no, è mega importante perché... No, è troppo alto, va bene. Avere una rendita passiva mentre si gioca è molto più remunerativo di andare in giro a rubare. Ma come ci arrivo qua sopra? Aia, dove devo andare? Non vedo il... Non vedo i segnali. Qui? No. Qui? Non mi pare. Oioioi. Si è fatto molto male questo idiota. Babababab al buziente. Mangia. Ah, una medicina mi ripara tutto? Dal bordo, dite? Non trovo. Quale bordo? Sembrerebbe da lì ma... Qualcosa non funziona. O mi sono sbagliato prima? Non capisco. Non ci va? Ah! No, neanche da lì? Neanche da fuori? È pazzesco, raga, ma mi manca un pezzo logico o sono... Mi manca un equipaggiamento? Non trovo la salita. Ah, secondo me è quel coso nero lì sopra, dove adesso sto puntando col cappuccio, questo qui, dovrebbe essere un appiglio. Cioè, in vita reale lo proverai lì. Ma dove, dove devo andare? In futuro forse avrò la risposta. Va bene. Allora non è accessibile. Allora, ho capito. Devo aspettare di costruire il borgo e ricostruirlo da zero. Guarda, Naruto! No! Oh oh. Ah, c'era un coppo. Aspetta. Volevo farlo bene. Eccolo qui. No! Ah, non posso farlo. Scusate. Un attimo, un momento di follia dopo ore e ore di gioco. Ok, basta. Ah, me lo dice e basta. Non è che me lo fa fare. No, no, no! Era perfetto. Risaliamo. Ole. Uno, due e tre. Fante, cavallo e re. Let's go. Questo preso. Mi sa che quella è la chiesa, quindi... Non vorrei dirlo, ma forse è il caso di sbloccare la chiesa. No, è proprio sotto. Dove è questo? Dove sono? Dentro la chiesa. Ah, sì. Quindi questi li prendo dopo. Invece... Bello questa cosa che non posso averlo tutto. Subito. Tranquillo, Cam. Buona serata. Ma come si è attaccato? Ma come è attaccato? Ma... Eh, io vorrei... Ok. Sali, 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 sali. Bravissimo. E ora... Dovremmo risalire sopra le mura. Da qua? Può farlo? No. Troppo basso. Non ancora. Però qui stiamo salendo di livello pian piano. Cioè di altezza. Ecco qui. Forse qui lo può fare. Esatto. Voilà. Non ancora. Neanche qui. Ah, forse qui è più basso. Giustamente. Madonna, ma sono proprio un agone, un pagliaio queste robe. Difficile esplorare. Forse non è ancora detto che devo farlo. Cioè è troppo presto forse. E infatti anche qui è stato un errore. Non c'è un cazzo. Ho sbagliato torre. Lì sicuramente c'è qualcosa, ma... Eccolo là. Cos'è quella roba? Non è? Mi sono fatto male, vabbè. Non è la solita roba quella. Cos'è? Questa è semplicemente qui. Va bene. Anche questo è più basso. Lì non posso salire da adesso. Ah, sì, eccolo qui. Vai. Sali, sali, sali. Di lato. Piri, pipi. Cos'è? La piuma! La piuma per la mami. Piuma raccolta, certo. Ci sta, dai, floretta. Ok. Ah, questa è l'altezza terreno. Benissimo. Quindi o è per dentro o è per fuori. E mi sa proprio che è per fuori. O c'è qualcosa qui che bisogna sbloccare. Vediamo subito. Facciamo un piccolo scatteno. E' vero. Se Ezio fosse nudo ogni volta che apre uno scrigno. Eccolo qui. La festa delle albiconche. Va bene. Ora, quanti ce ne mancano? Molti presumibilmente. Però sto rompendo il cazzo. Penso che possano essere sufficienti. Io non posso fare fast travel. Colloca, rimuovi segnali, sposta, zoom indietro, leggenda. Non c'è niente. Quindi, va bene. Volevo semplicemente comprare la banca. Innanzitutto fare questo. Mangiare e chiedere qui di... E poi andare su, comprare la banca con i 2.500. Forse, come si dice, anche qualcos'altro da 1.000. Non penso ci sia nulla. Fast travel solo alla carrozza, immaginavo. Però, vabbè, non importa. Andiamo a recuperare. Ancora il cerchio. Giusto. 2008. Va bene. Buongiorno. Salute, Serezio. Diamo un occhio alla lista. Lo diamo. La diamo. La diamo l'occhio. La diamo l'occhio. E... Piripi. Banca. 1.500. Ah, minchia. Benissimo. E poi basta. I prossimi sono 3.000, 4.000, 3.000, 3.000, 4.000. Sì, almeno 3.000 devo farli. Va bene. E vediamo se... Ah, questo però non è detto. Quindi presumo che il benessere generale della cittadina migliori automaticamente. Quindi quelle torri vengono ricostruite. Valore più 6.500. Perfetto. Possiamo andare. Allora raga, direi... Abbiamo fatto molto oggi. Vorrei solo capire da Leonardo le cose da sbloccare e poi direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Questo episodio è stato molto ciccione. Siamo riusciti a portare a termine tantissime cose della trama principale e siamo andati avanti a moltissimo. Siamo diventati finalmente degli assassini. Abbiamo trovato casa e abbiamo trovato uno scopo, che è la cosa più importante. Tutte le pedine sono state posizionate per i prossimi passaggi. Devo dire che è proprio stata una bella esperienza. Ah, di qua devo andare. Parla. Firenze. Ah, posso anche scegliere. Tutti i 100 costano. Bottega di Leonardo, perfetto. Mi portano direttamente... Ah sì, perché il fast travel è proprio lì davanti. Sì, voglio raggiungere quello. La prossima live la faremo... E quindi il prossimo episodio lo faremo su Firenze. E cercheremo di esplorarla quanto più possibile. Cioè lunedì. Alle 21, come al solito. Fichissima sta cosa che si costruisce così. È un misto tra Matrix... E Matrix. Però è molto molto bello. Cioè mi... Io adoro Matrix, quindi richiamare questo tipo di stile... Mamma mia. Bianco invece che verde. Quindi dandogli una spolverata anni 2000 invece che anni 90. Buonissimo. Perfetto. Ricaverai informazioni utili. Quindi ogni volta che sono un po' ricercato mi appaiono... Ok. I cartelli miei. Rezio, sei ancora vivo? Oh sì. Ma guarda che posto. Gli ultimi due anni sono stati generosi con te. Ma tu non sei più lo stesso, non è vero? Speravo che potessi aiutarmi con una certa cosa. Qualunque cosa per te, amico. Mi ero perso che sono passati due anni. Mi hai recuperata un'altra. Magnifico. Due anni sono tantissimi. Questa è complicata. C'è un uso molto abile di lingue antiche. Forse se riuscissi a... Sembra una specie di manuale con... ...differenti tecniche di assassino. Posso vedere? Aspetta, questo cos'è? Non è proprio un progetto questa volta. Solo alcuni schizzi. Che cosa se ne potrà ricavare? Come entusiasta. E perché no? Ma che idea ispirata. Potresti realizzarlo mentre studio quel frammento del manuale. Prendi. Chiederò al mio assistente di sistemarti dei manichini su cui far pratica. Ehi, Vincenzo! Che bello l'entusiasmo di Leo. Fai pratica con le nuove tecniche di assassino mentre Leonardo armeggia con le pagine... Va bene. Nuove tecniche assassine? Cosa devo fare? La macerata potenziata. Oh, signore. Oh, signore. Per assassino il messaggio agganciato. O meno. Ah, da un nascondiglio. Mi chiedevo se mai sarebbe successa sta roba. Bellissimo! Oh, quindi questo è dall'alto. Ciao. Ciao. No, raga. Comunque posso dire due anni con Mario, mio zio. Non succede niente. Cinque minuti con Leo e già imparo le robe più fiche. Va bene. Pensavo fossero passati alcuni mesi. Due anni sono tanti, eh. In effetti ha dato un numero di anni, però non me ne ero accorto che erano due. Quindi da qua. E lo butta giù. Ciao. Sono... Sono allibito. Sarà divertentissimo, oddio. Ma adesso abbiamo un margine... E quindi vuol dire che adesso attaccati in cat, dalle sporgenze tipo così... No, così. Andare in giro così sarà un nuovo costume? Ecco. E posso tirare giù le guardie che mi arrivano a guardare? No, bellissimo. Molto comodo. Bellissimo. Bene, bene, bene. Ce l'ho fatta. Su, vieni. Guarda. Che cosa ha creato? Prendi, provala. Grazie, Leonardo. Non c'è di che? Devo vedere qualcuno finché sono qui. Ma non posso avvicinarlo pubblicamente. Sai per caso come potrei... La volpe. La volpe? Shhh. Capisco. Ma hai idea di dove possa trovare una volpe? Magari vicino al mercato dove stanno i ladri. Sta attento, amico. Mille fiorini. La posizione delle pagine del codice appare sulla mappa quando raggiungi i punti di osservazione. Raccupere tutte le pagine per sboccare... Ok. Ecco perché le pagine del codice vengono subito inserite nella mappa. Senza bisogno di fare altri casini. E ci sono tro... Cioè, troppa roba. Troppa. Ma io come faccio? Dobbiamo ancora vedere la corsa. Allora. Togliamo il manifesto a noi. Così siamo liberi di andare in giro. E in effetti dopo due anni, insomma. Voilà. La posizione del codice è nascosto a presa. Prendiamo questi due scrigni che ci sono qui. Corse sbloccate. E vabbè, bisogna lanciarsi giù. Io ho premuto cerchio, ma non costantemente, quindi... L'armatura a piazza permette di deviare i colpi inferti con la macellata. Uccidi due nemici in un colpo solo con la doppia lama celata. Ho una doppia lama celata? E dove... Dove la provo? Ma in tutto questo... Dove sono questi due maledetti? Posso scrigni? Sarà un parto cercarli tutti, eh? Io non li cerco più. Cioè, non prendo più le mappe. Affanculo. Ma dov'è? Cioè, come faccio più che altro? Sono proprio qua dentro. Ah! Non mi ero accorto che c'erano entrate. Ma le case aperte così? Questo non... Non lo stavo proprio cercando? Una porta, quindi... Non me l'aspettavo. Va bene, buona sapersi. Uno e due. Benissimo, raga. Io direi che possiamo salutarci. Abbiamo fatto abbastanza. Sono molto soddisfatto. È stata... Un'emozione forte. Abbiamo fatto un sacco di robe fighe. Saliamo solo in casa di Leo, così. Prima di salutarci. Se riuscissi. Niente. Quindi adesso dobbiamo andare a uccidere il buon papà Francesco. che è il nostro prossimo bersaglio. Ma prima di farlo, sicuramente esploreremo al meglio ciò che ha da offrire a Firenze. Tipo andare in quell'altra chiesa di cui si parlava. E magari... Eccola là. E magari sbloccare un po' più di punti panoramici. Va bene. Grazie ancora. E alla prossima. Grazie.